Oggi parliamo di Federico II di Svevia. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è corte, un nome. Nel passato la corte era quel gruppo di persone che circondavano, che avevano delle relazioni con il re e con la sua famiglia. Una persona poteva essere ammessa alla corte del re e questa cosa era molto importante, molto prestigiosa. La seconda parola è superstizione, un nome. Una superstizione è una credenza irrazionale. Per esempio in Italia alcune persone pensano che i gatti neri portano sfortuna. Questa è una superstizione perché non c'è alcuna connessione logica tra l'esistenza di un gatto nero e un evento negativo. La terza parola è colto, un aggettivo. Una persona colta è una persona che ha molta cultura, che sa molte cose, che ha letto molti libri. Una persona può essere colta, ma anche un'espressione può essere colta se manifesta, se esprime un alto livello di cultura. Ok, siamo pronti per parlare di Federico II. Allora, il nome completo è Federico Ruggero di Hohenstaufen. Se LinkedIn fosse esistito, Federico avrebbe scritto di essere re di Sicilia, duca di Svevia, re dei Romani, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Gerusalemme. Ma LinkedIn non esisteva nel 1200, per cui Federico II non poteva usarlo per cercare lavoro. Come puoi immaginare, Federico faceva parte di una famiglia nobile, di una dinastia, gli Hohenstaufen. Questa famiglia veniva dalla Svevia, una regione dell'attuale Germania. Federico aveva anche due soprannomi, due nickname, molto umili. Le persone lo chiamavano stupormondi, che vuol dire meraviglia del mondo, oppure apuleie, che significa bambino di Puglia. E in effetti c'era da meravigliarsi, perché Federico aveva una personalità affascinante. Anche suo nonno è tuttora molto conosciuto, Federico Barbarossa. Insomma, Federico aveva una personalità carismatica e affascinante, che ha creato una serie di miti e di leggende popolari su di lui. Nella sua corte, a Palermo, Federico ospitava artisti e intellettuali da tutto il mondo. Ebrei, cristiani e musulmani lavoravano per lui senza discriminazioni. Federico non trattava diversamente le persone a secondo della loro provenienza o della loro religione. La sua corte era un ambiente aperto e multiculturale. Questo clima, questa situazione di apertura culturale, ha portato alla nascita di una scuola poetica, una scuola molto importante. Questi poeti, i poeti della corte di Federico, non usano il latino e scelgono il volgare. Il volgare è la lingua quotidiana, la lingua usata dalle persone comuni. Nel 1200 questa è una scelta molto forte. Normalmente, le persone parlavano il volgare e scrivevano il latino. Questi poeti scrivono per la prima volta in italiano, in volgare, anche se ovviamente stiamo parlando di un italiano molto diverso dal nostro, un misto di dialetto siciliano antico e di francese. Federico parlava sei lingue, era un poliglotta e fu un uomo colto ed energico. Creò e amministrò un regno nell'Italia del sud, nell'Italia meridionale, un regno molto moderno ed efficiente. Ebbe però anche molti nemici, tra i quali il Papa Gregorio IX. Secondo il Papa, Federico era l'anticristo. Perché? Perché Federico non credeva al potere temporale del Papa. Il potere temporale era il potere politico del Papa che riguarda il governo degli uomini. Non solo. Federico non era credente e pensava che la religione fosse solo una superstizione. Per questo il Papa Gregorio lo mandò in Terra Santa per riconquistare Gerusalemme. Federico partì e raggiunse Gerusalemme. Qui, invece che combattere, cercò un accordo, una mediazione con il sultano. Una parte della città va ai cristiani, un'altra parte va ai musulmani. Il sultano accettò e Federico riuscì a conquistare una parte della città senza usare le armi. Insomma, Federico II fu un sovrano che potremmo definire illuminato. Era una persona intelligente che credeva nella cultura e nell'arte. ha protetto e supportato degli artisti, dei poeti che hanno influenzato la lingua italiana. Pensa che anche Dante ammirava i poeti siciliani della corte di Federico II. Creò uno stato efficiente e moderno. Era aperto a diverse culture e cercava di risolvere i problemi attraverso la diplomazia e non con le armi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.